sono fidanzati non gli sta facendo l'accordo adesso il prossimo giro chiede ancora dov'è perché non l'ha più lì adesso lo fermo e dico è passato Ivan un quarto d'ora fa però è bello o con la neve? va bello è bello è bello cioè si vede quasi il percorso che devi fare si però nello stesso giro nessuno fa lo stesso giro vedo la doggiamo ciupare quella giacca lì sinistra l'aveva quando correva vent'anni fa esatto